Piglia la Puglia! Seconda parte di Piglia la Puglia, ben ritrovati a tutti. Oggi stiamo giocando con i ragazzi di Monteroni, applausone, e con i ragazzi di Montesardo, applausone. Prossimo gioco in scaletta, zuppa o pambagnato. Qui farò delle affermazioni, voi mi dovete dire se queste affermazioni sono vere o sono false, ovvero se sono zuppa o pambagnato, va bene? Prima affermazione, la cupeta è un dolce nel quale l'ingrediente indispensabile è rappresentato dalle mandorle. È vero! Zuppa! Zuppa! Bravi! Entrambi straordinari! Hanno il tono di voce un po' basso, ma vi assicuro che sono preparatissimi. Zuppa! Zuppa! La cupeta, ne parleremo anche della cupeta ancora nel corso del programma, viene realizzata in almeno tre versioni. La cupeta nera con mandorle intere, la cupeta bianca con mandorle pelate e la cupeta macinata con mandorle pelate e triturate. Faccia la faccia della mandorla pelata e triturata? Perfetto! Proprio così! Allora, si presenta in ogni caso come lunghe stecche di zucchero caramellato con mandorle tostate. A chi piace la cupeta, alzi la mano. Alzi la mano a chi piace la cupeta. Alzi la mano a chi piace la cupeta. Spontaneamente alzi la mano. Benissimo, benissimo. Piace a tutti, piace a tutti, piace a tutti. Seconda affermazione. L'olio extravergine di oliva Terra d'Otranto d'Oppa annovera tra le varietà di olive utilizzate la cellina di Nardò e l'Ogliarola Salentina. Pammagnato. Zuppa! Facevo così? Vuol dire che la risposta... E che ne so io! E che ne so io! Ma non ci capisco! E vabbè, ma perciò si fa il quiz. Non entri in polemica, scusi Emanuele! Non entri in polemica. E il quiz è proprio questo, scusi. Io faccio delle domande, delle affermazioni e a voi tocca rispondere. E le mie entri in polemica. Vabbè, faccio finta di non aver sentito. Andiamo avanti. Guarda che mi ritiro, eh? Mi ritiro. Non ho capito. Guarda che mi ritiro, eh? Guarda che se lei si ritira non è che fa il dispetto a me, fa il torto alla sua scuola, capito? E poi, poca confidenza. Mè! Si dice a Lecce? Mè! E lo dice a Bari, lo diciamo. Mè! Terza affermazione. Allora. Il licopene, fondamentale componente del pomodoro, serve solo a colorare l'ortaggio e niente più. Pambagnato. Pambagnato! Come vedete, forse sono io che mi metto troppo in alto, mi devo mettere un po' più giù. Complimenti. Quando ci vuole le faccio il complimento. Complimenti, risposta esatta. Anche a lei, cara Lucrezia. Il licopene, infatti, occhio che questa è un'informazione interessante, il licopene è un pigmento naturale, un carotenoide, che conferisce al pomodoro il tipico colore rosso. Ma questa preziosa molecola è anche un potente antiossidante. Si stima che la capacità antiradicalica del licopene si addoppia rispetto a quella del beta carotene e 10 volte superiore a quella della vitamina E. Quindi, mangiare pomodori freschi o anche secchi, o anche sott'olio, o anche scatariciati sulla bruschetta, fa di un bene che non ne avete idea. Consumate quindi tanti pomodori. Bene. Allora, noi abbiamo terminato questo secondo gioco. Adesso, l'avevo premesso in inizio di puntata, abbiamo tanti servizi oggi, uno dei quali è dedicato ad un importante insediamento rupestre che si trova proprio da queste parti e che si chiama Insediamento rupestre di Macurano. Sono immagini molto belle che vi mostriamo con grande gioia. Prego. Grazie. 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 Ed era l'insediamento rupestre di Macurano, come vedete, ma non c'è neanche bisogno di dire il Salento è una terra ricca non solo di cose buone, ma anche di cose belle da vedere e visitare. Allora, prossimo gioco. In punta di lingua. Allora, cinque parole chiave che vi daranno la dritta per indovinare la parola nascosta che rappresenta un ortaggio, un frutto, insomma, un prodotto della terra. Cominciamo dalla prima informazione. Aromatica. Pensiamoci sopra, però già il fatto che è femminile, aromatica, questo aggettivo, quindi sarà una pianta, no? Le piante sono aromatiche, non i frutti, avrei detto aromatico, invece ho detto aromatica, vabbè. Seconda parola chiave, margherita. Questo, di che cosa, margherita in che senso, secondo lei? Forse è una margherita aromatica. Una margherita aromatica diventa tutto problematico, però seguiamo la strada, lei quindi pensa al fiore, lei invece, se io dico margherita, cosa pensa? A una bevanda. A una bevanda? Quello è il margherita, è una bevanda alcolica che neanche, neanche per sogno bisogna nominare in questo programma. Emanuele, lei oggi me ne sta combinando una ed ancora una. Ma vedo un picco, vedo, vedo. Sempre in dialetto baresi vuol dire, ma guarda un po' che è questo, guarda, guarda. Andiamo avanti, margherita può anche essere la pizza. Va bene, andiamo avanti, terza informazione, zanzara. Adesso io ho capito, vabbè, io ho la risposta, ma qui avrei comunque capito anche io, penso un po', perché è una pianta aromatica. Sulla margherita serve per tenere lontane e le zanzare. In pochi lo sanno, ma è proprio una cosa naturale che ha questo grande pregio. Quarta parola chiave, salsa. Perché non c'è cosa più, sì, lei si è prenotata, però non dite niente così, non c'è niente di più bello che vedere questo bel piatto di pasta fresca con sopra questo sugo, questa salsa che dà ancora più di colore rosso e sopra tutto questo due belle, che si mettono proprio di questo colore che danno la gioia. Siete vicini alla soluzione? Sì, sì, silenzio, diamo l'ultima informazione a casa che proprio così scopriamo le carte. Pesto, perché si fa il pesto alla Genovese, però insomma il pesto anche noi qui. Basilico. Basilico. Basilico, risposta esatta, proprio così. Dite la verità, non sono la fine del mondo questi ragazzi? I miei, quasi tutti complimenti. Vedete veramente, allora parliamo del basilico. è una pianta annuale con fusti eretti ramificati alti fino a 50 centimetri. Fiorisce da giugno ad agosto. Il basilico è una delle piante aromatiche più usate in cucina per dare sapori ad insalati, sughi, minestre, formaggi, salse, eccetera, eccetera, eccetera. È il principale ingrediente del celeberrimo pesto alla Genovese, come abbiamo detto, è il succo delle foglie. Questa è la cosa che... il succo delle foglie strofinato sulla pelle allontana le zanzare. Va bene? Quindi quando arriva l'estate, lei, le zanzare la pungono? È la voglia. È la voglia. Allora lei, prima di andare a dormire, la sera dica alla mamma, mamma, mi, mi, eh? Mi fai mettere un po' il basilico addosso, pur se vai a fare la pizza, prendi un po' quella, te lo conservi, metti in tasca, poi vai a casa. Va bene? Va bene. Dice sempre Simba. Mi faccio il bagno di pomodoro. Non ho capito. E in più mi faccio il bagno col pomodoro. E in più si fa il bagno col pomodoro. Sardonico. Simpatico. Molesto. Allora, scherzo, è simpaticissimo Emanuele invece. Complimenti alle due squadre, fate un grande applauso. Noi ci prendiamo una pausa e ci vediamo per l'ultima parte di Piglia la Puglia. Grazie a tutti.